Cambio di guardia a Pietra Camela, il nuovo sindaco è Antonio Villani, che prende il posto di Michele Petraccia, pronto a darsi da fare per il Comune iniziando a concretizzare il programma presentato in campagna elettorale. Stiamo qui per fare qualcosa pro. Io con Michele Petraccia ho un buon rapporto, non abbiamo fatto campagna elettorale contro di lui, cerchiamo di fare una campagna che ci siamo messi in gioco per poter dare una mano e per cercare di cambiare un pochino il passo, per quanto possibile, su questa situazione. Diciamo che nel nostro programma abbiamo fatto un programma abbastanza risicato, perché noi non crediamo ai programmi di 50-60 punti per poterne poi realizzare i pochi. Un tema particolarmente sentito a Pietra Camela è quello dei prati di Tivo, in quanto gli impianti sono ancora chiusi. Toccherà a tutti gli attori che se ne occupano insieme al sindaco capire come muoversi e come incentivare il turismo nella zona montana. Per la situazione dei prati di Tivo rimane un problema complesso, laddove ci sono tanti soggetti che entrano in gioco, sul quale, come ho sempre ripetuto, il Comune ha una piccola entità di quota in questo Gran Sasso Terramano e quindi speriamo che riesca ad avere a incidere, almeno politicamente, sulla ripartenza degli impianti. C'è una speranza futura per i prati di Tivo? Allora, la speranza futura, parliamo di un futuro immediato, se qualcuno mi chiede, come qualcuno mi sta chiedendo in giro, sulla possibilità della riapertura degli impianti in inverno, o qualche perplessità, perché mancano i tempi tecnici, ci stiamo insediando adesso, quindi sarà complesso. Per il futuro bisogna scegliere, bisogna sentire tutti quanti gli organi preposti su quello che cosa vogliamo fare, se vogliamo continuare a dare a questa località un impulso turistico prevalentemente in senso invernale, oppure se vogliamo metterci una pietra sopra e creare un turismo alternativo.